Sono andate avanti tutta la notte le operazioni di spegnimento del grande incendio che ha interessato la Donati Legnami di Sansepolcro nell'Aretino. Le fiamme si sono alzate in alto verso il cielo e sono state visibili da molti chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre provenienti da Arezzo, Sansepolcro e dalle province limitrofe Forlice, Sena, Perugia, Firenze, Siena, in tutto 50 unità e 15 mezzi. L'intervento, oltre allo spegnimento delle fiamme che ha interessato lo stabilimento, ha consentito che non si propagassero alla segheria e agli uffici, ma soprattutto ad una fabbrica adiacente, ingenti i danni all'attività industriale. In supporto ai vigili del fuoco sono arrivati anche i soccorritori del 118, allertati intorno alle 22.50. Sono stati i soccorsi due uomini di 52 anni trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Sansepolcro, sul posto Ambulanze della Croce Rossa. Nelle scorse ore è stato il sindaco di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti, che si era portato anche nel luogo dell'incendio a firmare un'ordinanza. È stata decisa in accordo con l'Ufficio di Igiene Pubblica della ASL Toscana Sud-Est a scopo preventivo. È valida per cinque giorni, nel raggio di 300 metri, dallo stabilimento interessato dalle fiamme. Si raccomanda di non raccogliere o consumare frutta e verdure, di tenere al chiuso animali domestici o da cortile. Al momento la ricerca di sostanze tossiche o nocive che possano essere state esprigionate durante il rogo ha dato esito negativo. L'ordinanza si è resa necessaria per la ricaduta importante delle ceneri.